allora sono qua su questo pezzo dove ho fatto dunque sono in multicorpo o questo che una lamiera questo che una lamiera invece questo che è un pezzo con addirittura in estrusione ok dunque non è una lamiera addirittura ho messo che in materiale abs ok mentre questo un acciaio diverso da quest'altro ok adesso andiamo a vedere la messa in tavola più la messa in tavola ipotizziamo semplicemente adesso cancello qui la mia intenzione era di andare a fare la distinta d'italia o comunque l'elenco delle parti che ci sono su questo pezzo qua naturalmente è un pezzo multicorpo ok dunque io se scelgo la distinta di taglio devo andare a selezionare qua devo andare a distinta di taglio per saldatore clicco col tasto sinistro ok e vado a posizionarla per adesso la posizione qua vicino per vedere ok dunque e clicco qui ok vediamo sì clicco qui e clicco qua ok e allora la foto qua ok come si vede qua comunque mi dice ok è una lamiera è una lamiera questo invece non è una lamiera comunque me l'elenca giuste adesso andiamo a vedere poi anche il discorso della bollatura clicchiamo qua bollatura automatica e mi dovrebbe fare 123 ci siamo dunque abbiamo anche tutti i tre pezzi adesso come faccio andare a mettere il materiale ok picco qua qua è diverso dalla distinta distinta come si dice dalla dal bom la distinta materiali è leggermente diverso perché se io allora vado a cliccare qua e per esempio inserisco inserisco una colonna colonna dunque tasto destro inserisci colonna a destra ok dove voglio mettere il materiale ok di solito con la bill of materia col bom con la distinta materiali qua arriva questo dove poi potete cambiare la proprietà invece qua non c'è non si attiva però d'altro canto c'è questo dunque io ogni volta adesso vediamo di spostarlo ok clicco qui lo sposto leggermente così ok dunque ogni volta che clicco una colonna per esempio questa che voglio cambiare ok mi apri appare questo mentre nella bom no ok però nella bomb invece quando clicco la colonna appare questo qua ci siamo a questo punto io metto proprietà elementi distinta di taglio ok e voglio mettere materiale perché voglio mettere lì il materiale non la massa ho sbagliato il materiale ok dunque o uno in acciaio carbonio semplice un acciaio lega fuso e uno in abs ok vabbè della descrizione poi dove quello uno può fare quello che vuole qua perché non viene niente perché qui lunghezza lui non ha adesso andiamo vedere questa colonna ok non ha nulla di lunghezza bisognerebbe definirla ok se io vado qui invece metto lunghezza una lunghezza della contorno c'è tutto per le lamiere area vuota del contorno che dovrebbe essere zero perché andiamo a vedere a una volta del contorno a mio avviso dovrebbe essere zero però area contorno difatti la stessa dovrebbe essere area vuota bisogna vedere cosa intende comunque ecco l'area contorno lunghezza del perimetro esterno ok dunque posso mettere queste caratteristiche tipiche della lamira naturalmente questo non ci sono qua perché questa non è una lamira spero di essere stato chiaro ci vediamo alla prossima arrivederci